700 grammi di cocaina in casa arrestato 53enne pesarese aggredisce genitori e forze dell'ordine arrestato 1,32enne pesarese case popolari vismara da 5 mesi senza acqua calda e riscaldamento aeroporto ancona 4 nuove tratte verso l'europa megabox vallefoglia le gare casalinghe alle pala campanara una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News telegiornale di oggi martedì 1 agosto che apriamo con una notizia di cronaca ovvero con l'arresto di un pesarese di 53 anni per possesso di 700 grammi di cocaina detenuta in casa per un valore di 70 mila euro l'uomo ex commerciante nel settore alimentare e attualmente disoccupato è stato arrestato venerdì scorso dagli agenti di polizia attorno alle ore 20 dopo essere stato fermato in auto all'ingresso delle casello autostradale di Pesaro all'interno delle mezze non era presente alcuna sostanza stupefacente ma il controllo è stato ben più approfondito richiedendo la perquisizione della casa dell'uomo il 53 anni non ha posto resistenza nella sua abitazione nella periferia di Pesaro gli è stata ritrovata l'enorme quantità di cocaina suddivisi novoli e altri tipi di confezionamento adibiti allo spaccio il GIP ha convalidato l'arresto e disposto in carcere la custodia cautelare e continuiamo ancora a parlare di cronaca e parlando ancora una volta di un arresto a finire in manette questa volta è stato un 32enne peserese che ieri pomeriggio sotto l'effetto dell'alcol ha contattato lui stesso le forze dell'ordine a causa di un litigio avvenuto con i genitori a loro arrivo però l'uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente i poliziotti che lo hanno di conseguenza portato in questura procedendo con l'arresto il 32enne residente alla Celetta era già noto alle autorità per maltrattamenti in famiglia e nelle quartiere di Vismara i residenti di una casa popolare sono rimasti senza acqua calda e riscaldamento dallo scorso mese di febbraio il mancato pagamento delle bollette di alcune famiglie ha di fatti indotto l'ERAP a interrompere il funzionamento dell'impianto provocando però malessere anche nei residenti che invece questa cosa l'hanno pagata quest'oggi ci troviamo nel quartiere di Vismara in via Senna perché nella palazzina, nelle case popolari che vedete alle mie spalle i residenti da ben 5 mesi vivono senza acqua calda e senza riscaldamento vero, è ancora estate e le alte temperature ancora consentono una piccola boccata d'ossigeno ma visto che il problema si presenta dal 27 febbraio gli abitanti si dicono preoccupati in vista dell'autunno l'edificio gestito da ERAP accoglie 23 famiglie di queste 23, 13 per motivi ancora da chiarire avrebbero degli arretrati per le utenze di circa 40.000 euro il mancato pagamento delle bollette ha condotto l'ente regionale a porre i sigilli al contatore centralizzato interrompendo però l'erogazione a tutto lo stabile compresi 10 nuclei familiari paganti a fotografare questo spiacevole episodio è stato anche il consigliere regionale Andrea Biancani che ha sollevato la questione in regione io ritengo che questa sia una situazione poco dignitosa soprattutto anche perché all'interno del fabbricato ci abitano persone che hanno anche fragilità persone con disabilità e quindi ritengo veramente questa situazione incredibile io penso che ci sia un errore di fondo cioè l'errore di fondo è quello di pensare di progettare case popolari con impianti centralizzati anche perché le situazioni di persone morose per diversi motivi o perché non hanno le risorse o perché magari sono a volte anche persone particolari che decidono di non voler pagare fare impianti di questo tipo in case popolari lo ritengo sbagliato impianto del gas centralizzato che è risultato inadeguato per una realtà popolare nonostante fosse stato installato qualche anno fa con la capacità di generare un basso impatto ambientale nel mese di marzo Biancani con l'assessore comunale Conti aveva incontrato ERAP per individuare una soluzione tecnica per modificare l'impianto la soluzione individuata ormai da fine marzo era quella che ERAP avrebbe dato un incarico per studiare una soluzione progettuale tecnica diversa quindi per rendere autonomi i singoli contatori da quello che mi risulta ERAP ha secondato cioè ha dato seguito a questo incontro e ha dato un incarico purtroppo per oggi siamo arrivati a fine luglio ai primi di agosto e ancora non abbiamo un progetto ben definito ma soprattutto non si sa quando inizieranno i lavori e quindi chiedo che i lavori vengano fatti quanto prima in maniera tale che già dal mese di settembre massimo il primo di ottobre l'impianto possa essere funzionante e ci sia la possibilità appunto di suddividere i contatori in base ai condomini Convivere con questo blocco continua ad essere preoccupante ed estenuante per le famiglie residenti di questa palazzina Adesso è caldo ma arriva l'inverno presto e speriamo che la situazione migliori che la gente si metta una mano sulla coscienza che si impegnano a pagare chi è che non paga Come è stato l'inverno scorso dal 27 febbraio? Non avevate più acqua calda e riscaldamento? Come l'avete visto? Farsi il bagno come ai tempi medievali nel mastello scaldare l'acqua sul gas e lavarsi così pezzi E come vi riscaldavate? Senza niente io perché le stufette elettriche assorbono un sacco di luce Io quando me ne tornavo a casa me ne andavo a letto sotto le coperte Quattro nuove tratte collegheranno le marche con l'Europa A breve dall'aeroporto di Ancona infatti sarà possibile viaggiare in destinazione Barcellona Vienna, Amsterdam e Bucarest L'aeroporto di Ancona allarga i suoi orizzonti ampliando l'offerta di viaggio Dal primo ottobre dall'Ancona Airport partiranno due voli al giorno per Milano Linate due per Roma Fiumicino e uno al giorno per Napoli Capodichino Voli nazionali di continuità da 60-65 euro a tratta che all'ex aeroporto Sanzio regaleranno un ruolo più centrale e di prestigio rispetto a quello ricoperto in passato Le novità però non finiscono qui perché stamattina sono stati presentati tre nuovi collegamenti diretti che legheranno ancora di più le marche all'Europa Vale a dire a Barcellona, Vienna e Bucarest dal 15 settembre ed Amsterdam entro la fine del 2023 Siamo riusciti a portare a casa questa operazione è un'operazione che come dicevamo prima è un'operazione di sistema che porta a casa oltre le lotte nazionali importantissime su Roma, Milano e Napoli queste quattro lotte internazionali che hanno una valenza fondamentale sia per quanto concerne i traffici incoming sia per quanto riguarda quelli outgoing e soprattutto sono traffici che vanno a giustificare sia motivazioni di traffico business che di tipo leisure Posso dire che quest'anno noi dovremmo chiudere l'anno con passeggeri che oscillano fra i 530.000 e i 550.000 L'anno scorso abbiamo chiuso l'aeroporto con 4,70 per la Vinidea L'anno prossimo andremo a sfiorare i 700.000 Quindi la Vinidea questo è il cuore delle operazioni di riposizionamento dell'anno prossimo Una sfida importante nell'ambito del turismo e dell'economia questa è l'impressione del presidente della regione Acquaroli Con la riapertura degli aeroporti dopo il Covid è fondamentale per noi per restare competitivi e soprattutto aprirci mercati esteri e essere collegati con le grandi città europee e queste 4 mete sono sicuramente 4 importanti città europee che ci aiutano nella distagionalizzazione nella promozione e soprattutto nella crescita è importante comunque continuare in questa fase di promozione e soprattutto è importante oggi insieme alla continuità territoriale continuare a far uscire dalle marche la nostra potenzialità 4 nuove destinazioni che significa passare da 260 milioni di possibili turisti a 360 milioni quindi con queste 4 destinazioni andiamo su 100 milioni di nuovi potenziali turisti questo per noi è estremamente importante in una stagione dove stiamo vedendo che il turismo che viene dall'Italia cala cosa avevamo già previsto cresce quello che viene dal resto del mondo e quindi diciamo che è in linea con quelli che sono gli obiettivi dell'Agenzia del Turismo e la foto che vi mostriamo ora è stata pubblicata nelle scorse ore dalle profilo Facebook dell'assessore Enzo Belloni che sul suo profilo social è lamento lo stato di abbandono in cura che presenta frequentemente la spiaggia di Firenzuola nello scatto sono ripresi sacchetti bottiglie di vetro e varie immondizie che nella giornata di domenica sono state lasciate incustudite a due passi dalla spiaggia proprio a pochi metri dalle cartelle che indica appunto il divieto di abbandono rifiuti una fotografia che riprende il completo disinteresse alle vivere civilmente da parte di alcuni bagnanti e sabato 29 luglio alla palestra di Morciola Francesca Ricci a Vallefoglia si è svolta l'inaugurazione del murale si è dedicato alla memoria del professore Alberto Renda vediamo nel 2019 quando Alberto Renda è venuto a mancare come società sportiva ci siamo posti il problema di come portare avanti la memoria di Alberto nei posti dove noi svolgiamo la nostra attività e dove tutti i ragazzi passano parte della loro giornata siccome la palestra era già stata intitolata Francesca Ricci atleta scomparsa nel 2015 proprio per volere di Alberto e da parte di tutti i componenti della polisportiva sinceramente non sapevamo come fare poi c'è stata una mozione consigliare nel comune di Vallefoglia da parte di Emanuele Brizzi che ha proposto di realizzare un murales di grandi dimensioni sulla parete della palestra e sinceramente ci è sembrata a noi e soprattutto anche alla famiglia di Alberto Laura e Valeria le sue figlie una bella idea perché comunque ci permetteva di tenere Alberto ben presente appunto nei posti dove siamo dove svolgiamo l'attività sportiva e la scelta insieme sempre alla famiglia è stata quella di provare a proporre alla cooperativa CEIS di Pesaro dove Alberto insieme a Dolly prestavano la loro attività di volontari di provare a rappresentare Alberto nel suo mondo quindi Gloria Benedetti ha realizzato la bozza definitiva su quello che era stato l'input da parte del gruppo dei ragazzi della cooperativa CEIS e l'idea è piaciuta molto abbiamo un po' allungato i tempi e siamo arrivati adesso a realizzarlo e quindi abbiamo fatto l'inaugurazione in concomitanza con la 24 ore di volle che si svolge ormai da 7 edizioni grazie all'impegno dei ragazzi del circolo di bottega e del personale della polisportiva bottega quindi abbiamo pensato che fosse giusto farla in questa situazione al termine della 24 ore abbiamo dedicato un momento per l'inaugurazione del murales il murales rappresenta Alberto nel suo mondo il mondo variegato di Alberto perché Alberto comunque era presente su più fronti sicuramente la pallavolo che era la sua parte principale poi sono rappresentati nel murales degli animali gli animali in realtà rappresentano la parte a parte la dedizione di Alberto sempre verso gli animali però è una rappresentazione grafica dei ragazzi della cooperativa poi ci sono i ragazzi che giocano pallavolo c'è la rete che divide ma non divide in realtà unisce sono rappresentate delle erbe che in pratica perché comunque era appassionato di erbe sia quelle commestibili da mangiare ma sia anche di erbe curative ringraziamo per chi ci ha supportato e aiutato nella realizzazione di questo murales dai consiglieri in particolare Emanuele Brizzi che ha avuto l'idea il comune e tutti quanti comunque Gloria Benedetti che l'ha realizzato Chase e Giuliano Ferri che hanno comunque avuto l'idea e ci hanno aiutato nella realizzazione E a Vallefoglia sono iniziati i lavori di sistemazione e di messa in sicurezza delle Fosso Taccone nelle centro abitato di Montecchio Le operazioni riguardano da prima la rimozione di una grande quantità di ramaglie e detriti accumulati dalle ultime forti piogge dopodiché prevederanno la sistemazione delle fiancate delle canale con la posa dei blocchetti autobloccanti un intervento dalle costo complessivo di 75 mila euro provenienti dall'avanzo di bilancio questa serie di lavori fanno parte solo delle prime steppe dopodiché è già stato approvato un progetto della regione Marche per la completa messa in sicurezza delle Fosso per un importo di 3 milioni di euro di cui 900 mila sono già stati finanziati dopo l'intrattenimento di luglio torna Gabici in festa con 4 appuntamenti anche per il mese di agosto l'ottava edizione di questo evento promossa da Confcommercio Marche Nord proporà per il 3 di agosto un mosaico Folkestra sulle note dei nomadi il giorno successivo si continuerà con un tributo a Delton John con l'artista italo australiano Marvin mentre sabato 5 ci lascerà spazio alla canzone d'autore con Stefano Ligi domenica 6 agosto invece si omagerà Vasco Rossi con la sua Tribute Band appuntamento con le 4 serate alle ore 21 in Piazza Municipio e mercoledì 9 agosto invece il comune di Tavuglia ripresenta Camminata sotto le stelle un'escursione storico-culturale musicale per scoprire le bellezze naturali dell'entroterra pesarese il ritrovo è fissato alle ore 20 allo Yellow Park di Tavuglia dal quale partirà il tragitto verso Monte Peloso meta nella quale saranno allestiti diversi stand gastronomici dove poi si potrà assistere al concerto di Lotti BB Band atmosfera in cui si potrà osservare le stelle alla disponibilità di un telescopio e delle gruppo astrofoli di Saludeccio e prosegue il ciclo di appuntamenti di Miral Teatro d'Estate nella cornice dell'anfiteatro delle Parco Miralfiori infatti il 3 agosto il coro filarmonico Rossini di Pesaro porterà Carmina Burana di Karl Orff è una prima per noi assoluta in quella location che è una location che si presta benissimo al programma stiamo parlando di Carmina Burana dove non si fa altro che parlare di natura di amore di salute di fortuna tutto ciò che è più umano siamo lì immersi in un posto bellissimo e quindi ci aspettiamo una serata carica emozionante dal nostro punto di vista lo sarà sicuramente ma penso anche per il pubblico l'appuntamento anche ora è? alle 21 e 15 biglietteria disponibile online su Viva Ticket disponibile allo sperimentale dalle 17 alle 19 mercoledì e giovedì e giovedì stesso 3 agosto al Miralfiore direttamente dalle 20 in poi 12 euro costo unico molto popolare abbiamo scelto questa politica perché l'idea di essere per tutti ci piace Carmina Burana di Karl Orff che tutti conoscono anche il pubblico conosce è un'opera amatissima e la proponiamo nella versione per due pianoforti e percussioni che è una versione ridotta rispetto alla versione originale ma che il compositore stesso Karl Orff dopo l'enorme successo che ha avuto la prima esecuzione di questa opera ha fatto sì che facendo questa questa riduzione permette l'esecuzione anche ad ensemble più ridotti quindi un'esecuzione più agevole un po' per tutti è una versione assolutamente conosciuta da tutti ed è quella che proponiamo appunto in questo concerto e gli artisti appunto che prenderanno parte a questo concerto sono i seguenti abbiamo i tre solisti la soprano Federica Livi il baritono Giulio Boschetti il controtonore Angelo Bonazzoli i due pianoforti dove il primo pianoforte abbiamo Alessio Paolizzi il secondo pianoforte Silvia Arcolani e i quattro percussionisti che sono Giacomo Sebastianelli Marco Rovetti Samuele Barilari e Gianni Gabellini il direttore è sottoscritto e il tutto sarà presentato dalla musicologa Maria Chiara Mazzi che farà tutta la presentazione iniziale spiegando appunto che cosa è l'opera e quindi introducendo con una piccola guida all'ascolto il pubblico alla serata è una musica diciamo così esplosiva quindi sarà sicuramente un concerto molto impegnativo per quanto riguarda gli artisti il coro ma anche molto divertente e divertente sicuramente anche per il pubblico questa è una cosa che sappiamo già perché è un'opera che è già riproposta in tante occasioni però per la prima volta siamo al Parco Miralfiore con questo nuovo evento diciamo così e nello scorso fine settimana a Montellabate si è tenuta la 77esima edizione della Sagra delle Pesche un evento che noi come Rossini TV abbiamo seguito e potrete vivere l'intero speciale tv in onda venerdì alle ore 20 ora però vediamo un piccolo estratto oggi mi trovo nel bellissimo comune di Montellabate e ovviamente quando parlo di Montellabate parlo della pesca di Montellabate e io sono qui per la 77esima edizione della Sagra della Pesca di Montellabate ovviamente noi di Rossini TV siamo molto felici di essere qui perché davvero è una sagra molto antica storica forse una delle più storiche del nostro territorio più in generale della regione Marche sono state tre serate questa è l'ultima comunque molto con molta affluenza ben riuscita ieri sera con la podistica che era la settima edizione con oltre 160 iscritti oggi invece con la ciclistica della pesca con 125 ragazzi provenienti da sette regioni incluse le Marche quindi noi siamo molto contenti molto soddisfatti i peschicoltori ci hanno regalato le pesche più belle che coltivano quindi anche per loro è un motivo di vanto che dire è la mia ultima sagra delle pesche quindi è dell'ultima serata quasi mi commuovo però vabbè sono felice di essere riuscita a portare tante persone a Montelabate nonostante le tante manifestazioni che ci sono intorno a noi e questa già è una soddisfazione che mi riempie il cuore e dal vice sindaco ci facciamo raccontare qualcosa di questa buonissima pesca di Montelabate sì è una pesca particolare perché ottimizza il microclima e il terreno di questa vallata e quindi accresce il sapore e il gusto di questa pesca che viene apprezzato da tutti non tutti sanno che ci sono oltre 200 varietà di pesche quindi uno mangia la pesca pensando che le pesche siano tutte uguali invece nei vari periodi della stagione ogni pesca ogni tipo di pesca ha la sua abaturazione quindi molti conoscono la nettarina perché è la classica pesca senza pelo però ce ne sono tanti altri tipi che sono molto buone e gustose tipo la slapa che non è molto commerciabile perché matura molto presto ma tanti altri tipi perché appunto ce ne sono oltre 200 volevo anche ringraziare tutti gli stand gastronomici che ci hanno deliziato con le loro prelibatezze sempre dove c'è inserita comunque la pesca di Montelabate quindi abbiamo mangiato del benissimo farro con le pesche e gamberi dal nostro stand delizia di mare di Osteria Nuova abbiamo comunque assaggiato da Ruben la macelleria di Osteria Nuova il suo preparato di pesche con il panino e il nostro punto di forza i nostri signori dell'Houser che ci deliziano con il vino con le pesche quindi la nostra peschetta dovete assaggiarla veramente tutti e continua anche lo spettacolo all'arena BCC di Fano dove le 3 e le 5 di agosto Ennio Morricone e gli Abba verranno omaggiati con due spettacoli musicali portati in scena dalle nuove Teatro Verdi di Montecatini Terme dopo essere stato omaggiato in occasione dell'ultimo festival del cinema di Pesaro Ennio Morricone verrà tributato anche all'arena BCC di Fano tra gli spettacoli in programma giovedì 3 agosto alle 21 il nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme porterà sul palco omaggio a Morricone Musiche da Oscar Il nostro omaggio a Morricone Musiche da Oscar è un po' il nostro fiore all'occhiello con la direzione del maestro Andrea Albertini e la parte musicale strumentale è affidata alle muse all'ansamblo e alle muse che è un gruppo orchestrale femminile appunto sono nove come le nove muse e la parte invece vocale è affidata la sua dente voce di Angelica De Paoli e questo è il nostro fiore all'occhiello perché è lo spettacolo per il quale diciamo siamo conosciuti a livello nazionale e avendolo portato veramente da nord a sud è dal 2017 16-17 che lo portiamo in tutta Italia e non fa altro che crescere la stima insomma l'affetto che il pubblico ha per questo gruppo straordinario di musiciste e di musicisti il nuovo Teatro Verdi allarga i suoi orizzonti scrutando anche in Scandinavia alla scoperta di musiche e melodie del gruppo svedese più pop che ci sia lo spettacolo Abba Dream sarà all'arena BCC il 5 agosto alle 21 questo invece è il nostro tributo appunto agli Abba Abba Dream The Tribute Show è un gruppo italiano però molto molto celebrato è famoso anche all'estero insomma loro si sono esibiti sia in Italia che in vari tour appunto in tutta Europa anche in Svezia in Svezia non lo so non te lo so dire però insomma è una delle maggiori tribute degli Abba che abbiamo qui da noi e anche loro li abbiamo portati in diversi teatri italiani registrando sempre il tutto esaurito e tra l'altro appunto loro ovviamente ripropongono le coreografie originali i costumi riproducono fedelmente i costumi della band svedese e per cui è uno spettacolo veramente unico e concludiamo questa nostra edizione di Rossini News parlando di sport e nello specifico la pallavolo la Megabox Vallefoglia infatti per la prossima stagione dirà addio alle pala Carnaroli di Urbino per trasferirsi a giocare le sue partite casalinghe alle pala di Campanara le Tigri discuteranno dunque le partite casalinghe a Pesaro in linea anche con la scelta delle Presidente Angeli di riportare in città la massima serie di pallavolo l'accordo prevederebbe la concessione per due anni e le Palazzetto vedrà in caso di firma cambiare nome in Pala Megabox oltre alle partite delle Tigri di Vallefoglia la Rena ospiterà le gare casalinghe dell'Ital Service Calcio 5 e delle tre squadre di basket di serie B e con quest'ultima notizia di sport termina qua questa nostra edizione di Rossini News prima però di lasciarvi le previsioni delle Meteo vi ricordo la nostra prima serata di questa sera perché ci sarà la prima serata dedicata al 51esimo Festival del Gallo d'Oro quella dedicata ai più piccoli e nominata il Galletto d'Oro e vi ricordo anche l'appuntamento come di consueto con la nostra rassegna stampa da lunedì al sabato domani mattina a 7.20 in diretta sul nostro canale 80 sulla nostra pagina Facebook a condurre la nostra rassegna stampa ci sarà Paolo Pagnini ed è davvero tutto con questa edizione di Rossini News io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata